Riguarderebbe la gara indetta dal Comune di Foggia per l'affidamento dell'appalto per la gestione del cimitero, il blitz compiuto dalla Guardia di Finanza negli uffici dell'area tecnica del Comune di Foggia e in particolare in quelli del servizio appalti e contratti. A centro dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Foggia l'affidamento dell'appalto per la gestione del cimitero, un appalto da 18 milioni e mezzo di euro e cui bando pubblicato ad agosto dello scorso anno prevedeva la gestione per 11 anni del cimitero, la progettazione esecutiva e l'affidamento della concessione dei lavori di costruzione dei loculi. Gli uomini delle fiamme gialle nei giorni scorsi hanno visitato gli uffici comunali eseguendo un decreto di perquisizione e acquisendo gli atti su cui si concentreranno le indagini. Da indiscrezioni ci sarebbero tre indagati, sulla vicenda vige il più stretto riservo da parte degli organi investigativi.